oggi la cosa importante era quella di vincere questa partita era fondamentale importantissima dopo la sconfitta nel derby nel pareggio in champions league contro il newcastle 0 a 0 e per fortuna siamo riusciti a vincere grazie al gol di leao mezzo regalo della difesa del verona partita sbloccata subito all'ottavo infatti il portoghese ha portato il milano in vantaggio poi dopo diciamo poca roba niente più non c'è stato un grande gioco partita abbastanza noiosa la cosa più importante più bella diciamo la partita è stata la parata di sportiello su quel copo di testa verso fine primo tempo che ha salvato il risultato ha mantenuto 1 a 0 nel secondo tempo c'è stata quella occasione di musa però non poco abbiamo creato poco un gioco un po confusionario molti lanci lunghi tante palle perse però diciamo quello che conta era la vittoria la vittoria arrivata ci teniamo stretti questi tre punti e dopo le due partite contro il treno cast erano fondamentali per riprendere il cammino ora ci sarà la partita di cagliari in settimana e poi sabato quella con la lazio per poi andare a dortmund in champions league quindi teniamoci stretti questi tre punti anche se la prestazione è stata abbastanza scadente non è stata una grande partita come dicevo prima molto ma molto ma molto noiosa però la cosa importante sono sempre i tre punti alla fine si ricorda il risultato e non la partita quindi teniamoci ristretti e sempre forza milano